Sì, quest'anno qualsiasi attento vuovono? Sì? Aiuto, aiuto! Ma chi è? Che cazzo... Aprete! Aiutatevi, aiutatevi! Aprete! Apretevi! Senti, qui entri! Sanno i cittadini! Cazzo, entra dentro! Cos'è successo? Ho trovato fuori una porta che piangeva. Aiuto! Quanti anni hai? 17! Perché corre in mezzo a questo? Lui che sta in mezzo alla strada! Chi sei? Sui fratello! Sono in Italia, a casa mia e io sono scappata! E tu bene! Questa ora porterò quei bastardi a casa nostra! Però cosa facciamo? Cacciatemi fuori! Cazzo, cazzo! Capisco, sei pazzo! Allora, Dio! Cazzo! Che è successo? Sono entra... Vogliono entrare! Vogliono sfondare la porta! Vogliono sfondare la porta! Difendiamoci! Come? Ho le asini! Grazie! Se come si usa? Certamente! Io prendo la mia preferita! La mia carabina del 64! Ma io voglio... Portiamolo a ripar... Va bene! Tu ste... Ho paura! Andiamo! E' libero! 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 Inizialmente! Ti sono da più! Non c'è più! Sì, basta! Purtro! Puttana! Puttana! You're going to carry so quickly! Aghh! Puttana! Purtro! How would you do that? That's what we're following. Sì, 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 sì. Ecco le tre Va bene Ecco il vostro Posso di scappare quella puttana qui fuori Puttano Dove corre Puttana Dove v'hanno portato? Deverta Deverta Pubblico Si Ehi che cazzo? che meraviglioso? via mmmm prende che cazzo? che cazzo? che cazzo? a correre ehi va a inventire la mocciosa rapida trince ehi Ma che cazzo Mi provo Quella potuta riuscire a farmi sdenire Questo pezzate Non si può riuscire a farmi sdove vengono E' lo scasso nel vetro E' la macchina Si vede un cazzo E' la scala E' la macchina E' la macchina Cazzo si Mi sono cadute Oddio Oddio E' la macchina E' la macchina E' la macchina E' la macchina Cazzo Tutto ciò da sono ritornati si è in casa vieni qui vieni qui vieni qui guerra e guerra vita ma muovo come fa bucchina ma c'è il tuo stomaco ahahahah aiuto no HAHHHHH HAHAHA aca che aca 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 Sì, dove stai allontanile alle ore lì? o dice essendo che sento è il corso Il mio figlio è il mio figlio Mafferdo! Questo è per il mio fratello! Muschi bè? Muschi bè? Ma fatta! Come sa niente!